Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di case true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta nello stato di New York, più precisamente in una città di circa 30.000 abitanti chiamata Poughkeepsie. Si trova in una posizione molto strategica, ovvero a metà tra New York e la capitale dello stato, ovvero Albany. Per questo motivo è una città servitissima, è una città ben vista in generale dalle persone dello stato, viene considerata una città ideale per trasferirsi, soprattutto per il fatto che la sua economia è in grande crescita. È anche considerata una delle città migliori nell'area dove fare investimenti immobiliari, quindi se persone vogliono provare ad acquistare, a fare un mutuo per prendere una casa, un'abitazione lì, è sicuramente un posto dove conviene farlo per una ragione economica. Prima di andare avanti, piccolo disclaimer, perché il caso di oggi è un caso estremamente controverso, un caso che ha fatto parlare tantissimo gli Stati Uniti e lo stato di New York in generale, e che ha aperto anche un sacco di dibattiti molto discussi un po' in tutto il mondo, in realtà questa tematica non la vediamo solo negli Stati Uniti. Essendo un caso molto controverso, c'è sicuramente molto di cui parlare sia da un verso che dall'altro. Io come al solito, nonostante ovviamente abbia un'opinione, è inevitabile, sono un essere umano anch'io, cercherò di esporvi i fatti nel modo più oggettivo possibile, in modo che possiate farvi voi stessi in primis un'opinione, insomma, che non sia sbilanciata dal mio parere. In ogni caso, partiamo dal 2017, poi dovremo fare un po' di passi indietro. Ci troviamo, come vi dicevo prima, a Poughkeepsie, il 28 settembre del 2017. Quella notte, o meglio, nelle prime ore del mattino, ci troviamo verso le 2 del mattino, c'è un poliziotto che sta facendo in auto un giro della città, così per controllo. Ad un certo punto gira in una strada e si trova davanti un semaforo rosso. Davanti a lui in realtà c'è già un'altra macchina che sta giustamente aspettando che scatti il verde per partire. Dopo alcuni secondi, il verde arriva e la macchina davanti a lui non riparte. Il poliziotto pensa semplicemente che la persona che sta guidando la macchina sia distratta, quindi gli fa i fari, ma questa cosa non suscita nessuna reazione, evidentemente, nel guidatore, perché la macchina rimane ferma. Aspetta ancora qualche secondo, prova a suonare, stessa cosa, la macchina non parte. Pensando allora che magari la persona alla guida avesse un malore e non si sentisse bene, scende dalla macchina e si avvicina al lato del passeggero. Dalla macchina scende una donna in un totale stato di panico. Con lei nel veicolo ci sono anche due bambini molto piccoli. Quello che racconterà la donna alla polizia quella sera aprirà le porte ad uno dei casi più controversi mai avvenuti nello stato di New York. Christopher Grover era nato nel 1987 a Salt Point, una città a circa una ventina di minuti di macchina da Poughkeepsie. Fin da quando era piccolissimo aveva scoperto una grande passione per le arti marziali, in particolare per Taekwondo. Era evidentemente anche molto portato, i genitori lo sostennero sicuramente anche molto in questa carriera sportiva. Infatti fin da piccolissimo iniziò a partecipare a diverse competizioni e arrivò anche ad ottenere la cintura nera, che è il massimo grado. A scuola non era proprio uno studente brillante, infatti decise di concludere ovviamente le superiori, prendere il diploma e iniziare a lavorare in una palestra vicino alla città in cui lavorava, dove iniziò ad insegnare arti marziali e anche ginnastica in generale. Questo centro in cui insegnava era un centro dedicato ai più piccoli, ora non so se esistano posti del genere in Italia, vedendo un po' le foto a me ha ricordato molto una ludoteca, più che un posto dove si fanno arti marziali o che ne so, ginnastica ritmica, artistica eccetera. Infatti non si tenevano proprio tipo classi di arti marziali o classi di altre discipline, ma si facevano varie cose per far muovere un po' i bambini, c'erano vari attrezzi anche per questo. In ogni caso tutte le persone che lo conoscevano diranno che quel lavoro era assolutamente linfa vitale per Chris. Gli piaceva tantissimo insegnare, aveva un rapporto bellissimo anche con i bambini che andavano lì appunto a prendere lezioni ed era qualcosa che lo rendeva davvero felice. Proprio nello stesso centro inizia a lavorare nel 2008 una ragazza di 19 anni di nome Nicole Addimando, conosciuta da tutti come Nikki, quindi da qua in poi esattamente come Chris, lo chiamerò Chris e non Christopher. Mi riferirò a lei come Nikki. Nikki si era diplomata da poco, esattamente come Chris un paio d'anni prima aveva deciso di iniziare a lavorare lì e non proseguire gli studi all'università o al college. Era una ragazza molto solare, molto allegra e anche molto estroversa, quindi in breve tempo i due iniziarono comunque a parlare, a vedersi anche al di fuori dell'ambiente lavorativo. Una cosa tira l'altra, scocca la scintilla, iniziano ad uscire insieme. Si frequenteranno per gli anni successivi fino al 2012, anno in cui Nikki scopre di essere incinta, quindi i due decidono di trasferirsi insieme, ovviamente per potersi occupare insieme di questo nuovo bambino. Alla nascita del bambino che chiameranno Ben, Nikki decise di rimanere a casa per occuparsi a tempo pieno di suo figlio e le persone che la conoscevano, le sue amiche strette, la sua famiglia, la descrivono come una di quelle persone nate per diventare madri, le dava davvero tantissima soddisfazione personale, iniziò davvero a vivere per suo figlio. Due anni dopo Nikki rimane di nuovo incinta di una bambina che chiameranno Faye. Un giorno Nikki iscrive suo figlio Ben a uno di quei corsi di preparazione per la musica, un corso che al tempo era tenuto da una donna di nome Elizabeth, persona decisamente fondamentale per il corso di questo caso perché in poco tempo lei e Nikki diventano amiche davvero strettissime. Inizieranno a frequentarsi anche di fuori ovviamente dei corsi di musica a cui partecipava Ben e in poco tempo Elizabeth inizia a notare dei segni un po' preoccupanti, ovvero ogni tanto capitava che vedesse su Nikki dei lividi, piccolini, niente che non potrebbe essere spiegato con qualcos'altro, però è una cosa che inizia a notare e quindi inizia un pochettino a insospettirsi, quindi decide di chiederle come si era procurata quei lividi e Nikki bene o male dà sempre delle spiegazioni più o meno plausibili, nel senso che una volta sbattuto da una parte una volta stava giocando con i figli e uno dei due gli ha tirato un gioco, senza farlo a posto ovviamente le ha procurato quel livido cose che potrebbero effettivamente essere plausibili. Con l'aumento delle temperature però Elizabeth nota un'altra cosa strana ovvero nota che Nikki continuava ad indossare maglie a maniche lunghe, pantaloni lunghi, molto spesso anche una sciarpa attorno al collo cosa che non quadrava ovviamente moltissimo con l'arrivo dell'estate, tutte le altre persone mettevano magari maglietta a maniche corte o pantaloncini più corti. È in questo periodo che Nikki si trasferisce a Poughkeepsie insieme ai figli e a Chris nonostante la distanza, nel senso che chiaramente abitando magari più lontano si frequentano meno gli amici che vivevano nella vecchia città anche delle altre amiche d'infanzia di Nikki, ovvero Laura e Rachel, iniziano a notare questi segni in particolare al matrimonio di Laura Nikki era chiaramente un'invitata al matrimonio, anzi non un'invitata a qualsiasi ma una delle damigelle e come spesso si fa con le damigelle, solitamente la sposa sceglie il vestito uguale per tutte le damigelle o comunque simile, negli stessi colori, cose del genere. L'abito che doveva indossare Nikki era un abito senza spalline quando lo indossa, perché si preparano insieme per il matrimonio, tutti notano un segno che aveva sul petto che sembrava una bruciatura abbastanza grossa ma già in fase di guarigione. Nessuno in quel caso glielo fece notare perché, come vi dicevo, era già capitato in passato che magari le si chiedesse come ti sei fatta quel livido e Nikki dava una spiegazione più o meno quotidiana, cioè ho sbattuto di là, ho fatto questo e mi sono bruciata, cose del genere quindi nessuno le chiese effettivamente come si fosse procurata quella bruciatura però è una cosa che in molti hanno notato e soprattutto è una cosa che si vede nelle foto ufficiali del matrimonio perché quel vestito comunque lasciava scoperta quella parte. Nell'estate del 2016 Elizabeth decide di confrontarla ufficialmente di dirle di essere preoccupata per lei, che aveva notato questi lividi, che aveva sentito le spiegazioni sul fatto che avesse sbattuto di qua o di là, però che iniziava a essere preoccupata che subisse un qualche tipo di abuso domestico in casa Nikki in realtà all'inizio le dice di no, che insomma era solo sbadata lei, che sbatteva spesso e si faceva questi lividi fino a quando dopo un po' di insistenza da parte di Elizabeth cede e le racconta tutta una serie di cose prima di andare avanti vi anticipo che il lato controverso inizierà proprio qua nel senso che questa storia verrà raccontata in modi diversi a seconda delle persone a cui la si chiede io continuerò sul lato di Nikki, poi torneremo indietro e vedremo dove le cose potrebbero non tornare o meglio dove molte persone pensano che le cose non tornino tanto le cose che racconterà Nikki ed Elizabeth saranno davvero terribili racconterà che in realtà all'inizio della relazione con Chris lui era sempre stato molto carino, molto tranquillo non era mai stato violento nei suoi confronti quando aveva iniziato a frequentarsi da un po' il primo lato un po' aggressivo lo aveva notato nei momenti in cui avevano dei rapporti intimi fino ad arrivare al momento più estremo in quel periodo a un vero e proprio abuso sessuale che subì da parte di Chris poco dopo questa situazione Nikki scopre di essere rimasta incinta di Ben e racconta che il fatto di essere incinta sembrava aver calmato un po' Chris nei suoi confronti non c'era stato nessun tipo di violenza o di abuso durante tutta la gravidanza fino a pochi mesi dopo il parto quando per una lite che avevano avuto lui l'aveva presa e le aveva sbattuto la testa e la faccia contro il muro c'era stata poi un'ulteriore pausa tra virgolette delle violenze fino a quando lei non era rimasta incinta di Faye e da quel momento in poi per qualche motivo lui sembrava davvero aver perso il controllo e aveva iniziato a minacciarla o a picchiarla fisicamente un po' per qualsiasi motivo Elizabeth cerca di convincerla a denunciare alla polizia le dice puoi stare da me portati i tuoi figli rimani da me per tutto il tempo possibile ma andiamo insieme alla polizia a denunciare purtroppo però come in moltissimi casi Nikki non vuole denunciare dice che ha paura, ha paura delle ripercussioni e soprattutto ha paura di perdere la custodia dei figli e che quindi non avrebbe mai potuto vederli e che i figli sarebbero cresciuti con una persona violenta passano un po' di mesi a questo punto praticamente tra gli ultimi mesi del 2016 e i primi del 2017 avvengono tutta una serie di cose che per quanto poi ci saranno speculazioni a riguardo e ne parleremo abbiamo una documentazione dell'ospedale quindi quantomeno su certe cose ci sono delle prove effettive reali e oggettive ovvero il fatto che Nikki andrà in ospedale per tre volte in questo periodo in tutti e tre i casi con bruciature di oggetti metallici su tutto il corpo lividi di vario tipo, segni su polsi e collo come se fosse stata legata delle strisce come appunto quello che succede quando magari uno tiene l'elastico per tanto tempo ma molto peggio ovviamente come fosse una corda abrasioni sulla vagina e morsi sulle spalle quando si arriva ovviamente con delle ferite, delle abrasioni, dei lividi eccetera del genere in ospedale ovviamente vengono fatte delle domande sarà Nikki stessa compilare questo foglio con ad esempio chi è stato il tuo aggressore cosa è successo eccetera eccetera e in tutte e tre queste documentazioni Nikki dirà che il suo aggressore è proprio Chris il suo compagno in particolare descriverà l'aggressione che aveva poi portato alle bruciature scriverà in realtà non so se lo racconterà anche a voce alle infermiere comunque ci sono cose scritte dove racconterà che praticamente si trovava in cucina a preparare delle uova per suo figlio Ben era entrato Chris che gli aveva detto in maniera burbera di fare delle uova anche per lui e lei aveva risposto un po' ironicamente con sì signore evidentemente questo tono non era piaciuto a Chris che l'aveva presa, l'aveva messa per terra aveva preso un cucchiaio, lo aveva scaldato sulla fiamma e le aveva fatto alcune bruciature sul corpo questo episodio in particolare Nikki finirà con raccontarlo anche a Elizabeth la sua amica che ancora una volta le dirà ti prego prendi le tue cose una volta che non c'è che Chris ha lavoro prendi tutto, vieni a casa mia e rimani a casa mia fino a quando non ti sistemiamo con un lavoro insomma che tu possa economicamente mantenere te stessa e i tuoi figli Nikki ancora una volta rifiuterà questa offerta circa un paio di mesi dopo Elizabeth la vedrà arrivare in macchina con i suoi figli rallentare davanti a casa sua e ripartire il tutto per circa una decina di volte Elizabeth a questo punto la chiamerà anche al telefono le dirò ti ho vista, fermati, rimani a casa mia ma ancora una volta Nikki non riesce a fermarsi arriviamo ora al 27 settembre del 2017 un giorno in cui avverrà un episodio che come ho già detto ci ritorneremo con tutte le varie cose che verranno poi fuori nel processo in ogni caso procederò a raccontarvi quello che presumibilmente è accaduto quel giorno secondo le parole di Nikki il giorno dopo sarebbe stato un giorno particolare perché una mamma del posto in cui lavorava Chris una mamma di una bambina che solitamente partecipava alle lezioni di ginnastica tenute proprio da Chris si era resa conto che qualcosa non andava quel giorno ovvero aveva visto Nikki con dei segni, con dei lividi addosso e si era molto preoccupata ovviamente per la situazione da quanto letto era stata anche lei in passato vittima di una relazione violenta quindi è quasi come se avesse riconosciuto quei segni e quelle dinamiche tra Nikki e Chris di conseguenza aveva chiamato i servizi sociali e aveva chiesto di fare un controllo a casa di Nikki e Chris per assicurarsi che non stesse succedendo niente di pericoloso quella stessa sera infatti i servizi sociali avevano contattato Chris e Nikki e avevano detto loro che il giorno dopo, l'indomani, sarebbero venuti ad avere una sorta di intervista di un colloquio con sia loro due che i figli quella sera infatti Chris era tornato a casa prima dal lavoro aveva preso delle cose che secondo Nikki erano tutta una serie di prove degli abusi che aveva subito ed era uscito con queste cose, era ritornato poi qualche ora dopo senza quel borsone quindi presumibilmente l'aveva buttato, l'aveva nascoste da qualche parte il resto della serata procedette abbastanza normalmente Nikki prepara da mangiare, mangiano insieme prepara i bambini per la notte, li mette a letto dopodiché decide di farsi una doccia e dopo qualche minuto arriva Chris in bagno con un fare molto arrabbiato cioè apre e sbatte un po' la porta ha in mano un computer e lo butta praticamente nel piattello della doccia lo butta nell'acqua Nikki a questo punto è terrorizzata solitamente gli abusi che ha subito da parte di Chris sono iniziati proprio così e infatti Chris la fa uscire dalla doccia la porta in camera e le fa vedere una pistola Nikki ovviamente è molto spaventata non la vuole neanche toccare ma Chris vorrà proprio fargliela toccare fargli caricare quest'arma nonostante Nikki non volesse racconta che in quel momento le tremavano proprio le mani dopodiché la prende, la porta in soggiorno la mette sul divano e la violenta una violenza che Nikki racconta come molto più delicata e più gentile rispetto alle altre che aveva subito da lui nel corso degli anni e per questo motivo inizia da lì a pensare che dovesse essere in qualche modo un addio il fatto che il giorno dopo delle persone dei servizi sociali sarebbero venuti a parlare con loro a controllare la situazione in casa fece convincere Nikki del fatto che Chris avesse in programma di fare qualcosa quella sera qualcosa di davvero drastico per questo motivo Nikki aspetterà dopo l'abuso che Chris si addormenti sul divano prima di alzarsi cerca di alzarsi il più lentamente possibile il suo piano a questo punto è di fare una valigia prendere i bambini e andarsene a casa della sua amica Elizabeth che le aveva già proposto questa cosa da tantissimo tempo non è ancora però arrivata neanche alla porta del salotto che sento un rumore dietro di lei e sento un rumore metallico si gira e sul divano c'era Chris sdraiato ma sveglio con in mano una pistola e gliela stava puntando addosso a questo punto le dice di non muoversi Nikki capisce quello che sta per succedere quindi lo implora, gli dice lasciami andare prendo i bambini, me ne vado, non racconterò niente a nessuno nessuno saprà niente di quello che è successo glielo dirà diverse volte ma Chris le dirà sempre di no, che non l'avrebbe lasciata andare per questo motivo a questo punto le entra probabilmente un po' in corpo l'istinto di sopravvivenza gli si lancia addosso e riesce in qualche modo a fargli cadere la pistola per terra ora tenete in conto che questa pistola è carica e stando a quanto raccontato da Nikki era già carica a questo punto Nikki riesce a prendere la pistola da terra si tira su e gli punta la pistola addosso Chris a questo punto le dice adesso mi ridai la pistola ucciderò prima te poi me stesso ai bambini non verrà fatto del male al termine di questa frase Nikki preme il grilletto e lo colpisce una volta in testa in uno stato di shock poi prende i bambini, li carica in macchina e parte fino a quando non si ferma un semaforo e dietro di lei si ferma una macchina della polizia come vi dicevo all'inizio quel poliziotto era lì per fare un giro di controllo non stava cercando nessuno ma è in quel momento quando vide il poliziotto dietro di sé che Nikki ritorna un attimino in sé e capisce che non ha altre alternative deve chiedere aiuto non ha senso scappare così Nikki da queste immagini che avete visto verrà poi portata in centrale e nel frattempo che dei detective parlavano con lei le faranno ricostruire tutta la storia e tutto quello che vi ho raccontato fino adesso altri poliziotti andranno a casa dove trovarono Chris e troveranno la scena esattamente come l'aveva descritta lei con Chris sul divano e il computer buttato nella doccia il grande problema dal punto di vista delle indagini inizia qui perché come vi dicevo Chris era sdraiato sul divano e nella posizione in cui era messo era plausibile che Nikki gli avesse sparato nel sonno mentre lui dormiva ed era sdraiato sul divano e ovviamente se fosse stata quella la situazione voleva dire non solo che lei aveva mentito ma anche che non valeva nessuna ipotesi di legittima difesa perché si parla di un uomo che era sdraiato e addormentato in quel momento che era innocuo tra virgolette cioè nel senso dormiente fin da subito dalla mattina dopo l'avvenimento la notizia si diffonde a macchia d'olio per tutto lo stato e fin da subito cioè dal primo momento in cui questa notizia viene fuori iniziano i vari schieramenti perché c'era tutto un gruppo di persone compresa le amiche di Nikki compresa la famiglia di Nikki ovviamente e moltissime altre persone che sostenevano Nikki cioè sostenevano il fatto che si trattava di anni di abusi di qualsiasi tipo e di conseguenza una legittima difesa non solo nella situazione in sé cioè nel fatto che lui aveva intenzione di prendere la pistola uccidere lei e se stesso ma anche una sorta di unica via di fuga non giusta però probabilmente quello che aveva percepito Nikki quella sera dall'altro lato tantissime persone comprese amici di Chris e parenti di Chris erano convinti al 100% della sua innocenza e che Nikki avesse inventato tutto solo per giustificare il fatto che voleva sbarazzarsi di Chris e per quanto all'inizio questa fazione dal lato di Chris sembrava non dico ingiustificata però quasi una reazione naturale magari da persone che lo conoscevano genitori parenti non deve essere facile credere che tuo figlio abbia fatto tutta una serie di cose in realtà man mano nel corso delle indagini e del processo spunteranno tutta una serie di prove che per certi versi andranno a sostenere diciamo la loro teoria la loro ipotesi e per questo motivo quel gruppo tra virgolette cioè quel gruppo di persone che sostenevano Chris inizia a crescere arriviamo adesso al processo già all'inizio del primissimo giorno del processo davanti al tribunale c'era una coda lunghissima di persone che volevano entrare per assistere e ci sono delle immagini che vi metterò che sono effettivamente ci fanno un po' strano nel senso che in coda ci sono persone a sostegno di Nikki persone vestite di viola che è il colore che è stato scelto diciamo per la rappresentazione della lotta contro le violenze domestiche e genitori di Chris o in generale amici di Chris persone che sostenevano invece che Nikki fosse colpevole che fosse tutto inventato totalmente in un altro contesto un'altra situazione altre cose però mi ha ricordato un pochettino quello che poi è avvenuto con una rappresentazione molto più ampia perché si parlava di un altro livello di notizia il caso di Johnny Depp e Amber Heard non il caso in sé ma più quello che è accaduto con le persone che si sono schierate le persone a sostegno non con il caso in sé ovviamente parliamo di due cose totalmente diverse prima cosa che viene portata a processo l'autopsia a quanto pare questo colpo di pistola che era stato esploso da Nikki era stato esploso a una distanza molto ravvicinata con la testa infatti nella ferita dove c'era il foro d'ingresso della pistola c'era impressa nella pelle il segno della punta della pistola doveva voler dire che Nikki quando aveva premuto il grilletto aveva la pistola attaccata alla sua fronte già cosa diversa da quello che aveva raccontato lei o che era riuscita a prendere sta pistola gliela aveva puntata addosso e poi aveva sparato ora teoria dell'accusa ovvero contro Nikki secondo loro era stata lei a buttare il computer nella doccia in primo luogo per inscenare un po' la sua storia e in secondo luogo perché in quel computer non verrà trovata nessuna prova di niente cioè né che puntava da una parte né dall'altra quindi secondo l'accusa lei lo aveva fatto perché voleva proprio distruggere quel computer per far sì che non venisse fuori questa assenza di prove di abusi nei suoi confronti sempre secondo l'accusa Nikki aveva pensato che bagnando questo computer non sarebbero più riusciti ad accenderlo a vedere le informazioni che c'erano lì dentro e che quindi sarebbe stato molto credibile il fatto che Chris avesse distrutto delle prove che attestavano il fatto che avesse fatto delle violenze per tutti quegli anni nei confronti di Nikki altra prova che viene portata al processo e per questa prova in particolare ci sono ovviamente due spiegazioni della situazione una da parte dell'accusa una da parte della difesa ovvero il cellulare di Chris quella sera per circa 15 minuti erano state fatte delle ricerche su Google dal telefono di Chris queste ricerche erano decisamente strane ovvero parti del cervello da colpire per togliersi la vita oppure la polizia può capire che a qualcuno hanno sparato nel sonno oppure ancora come capire se ad una persona hanno sparato nel sonno tutta una serie non ve le leggerò tutte ma tutta una serie di ricerche simili che secondo l'accusa contro Nikki aveva effettuato proprio lei dal cellulare di Chris quando lui era già morto secondo invece la difesa erano ricerche che aveva fatto Chris perché c'erano due cose in primo luogo quadravano con la cosa lui voleva togliersi la vita e poi uccidere lei in secondo luogo in queste ricerche adesso in italiano non rendo ovviamente come ve l'ho tradotto io però potrete vedere che si riferiva con her quindi cioè le ricerche erano tipo la polizia può capire se le ho sparato nel sonno cioè a un riferimento femminile quindi a questo punto direi che i casi sono due o queste ricerche le ha fatte effettivamente Chris oppure quelle ricerche sono state fatte da Nikki sul telefono di Chris ma con l'intento di farle sembrare fatte da lui non per un interesse personale cioè non per sapere lei come ucciderlo o cose del genere altra cosa circa sei settimane prima rispetto all'incidente o all'omicidio quello che è stato Elizabeth l'amica di Nikki le aveva scritto per sapere com'era la situazione in casa come vi dicevo era una sua amica era molto preoccupata per quello che stava succedendo e Nikki le aveva risposto così è ok non ho ancora capito come ucciderlo senza essere beccata quindi sono ancora qui messaggio che al tempo da Elizabeth era stato letto in vena un po' ironica non l'aveva preso seriamente ovviamente per l'accusa si trattava invece proprio di un'esplicazione una esposizione di quello che stava davvero tentando di fare altre prove portate dalla difesa dei messaggi inviati da Nikki a Chris dei messaggi in cui loro stavano litigando e Nikki gli aveva scritto sei un bambinone questo è il mio problema cosa diavolo c'è che non va in te sei davvero così stupido messaggi che sempre secondo l'accusa dimostravano che in realtà la persona violenta nella coppia fosse lei e non lui anche se sono messaggi comunque non belli però di certo non provano niente poi sicuramente quadravano nella rappresentazione dell'accusa di tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso e queste le prove tutto quello che troveranno e che verranno usato ovviamente dall'accusa per accusare Nikki e dalla difesa per difenderla dobbiamo affrontare invece ora tutta una situazione che non sarà divertente da affrontare perché non si tratta di cose piacevoli ma che saranno molto chiacchierate nel processo molto chiacchierate anche fuori dal processo nelle varie notizie nei media eccetera tutte informazioni portate a processo dall'accusa ovvero si parte da un dato di fatto un dato di fatto molto brutto ovvero che Nikki all'età di 5 anni era stata violentata da un parente di una sua amichetta del tempo a quanto pare era andata a dormire a casa di un'amica e un parente di questa famiglia aveva abusato di lei questi abusi sono avvenuti i genitori di Nikki lo sapevano e tra l'altro aveva assistito alla cosa anche questa amica da cui era andata a dormire il fatto è che per qualche motivo incomprensibile per me perché gli adulti sapevano non è mai stata denunciata alla polizia non c'è mai stato un processo questa persona non ha mai pagato per quello che ha fatto quella violenza subita a 5 anni ovviamente avrà un impatto enorme nella sua vita come inevitabile che sia non solo dal punto di vista psicologico di vita quotidiana ma anche per il rapporto che Nikki svilupperà nei rapporti sessuali con altri uomini e per questo motivo stando a racconti di amici intimi sia di Nikki che di Chris in realtà all'inizio della loro frequentazione i due non avranno nessun tipo di rapporto intimo per tutto il primo anno di frequentazione e questa cosa in particolare secondo la difesa era proprio una prova del fatto che Chris non fosse una brutta persona e anzi rispettasse il fatto che comunque questa povera ragazza aveva subito oggettivamente delle cose atroci da bambina e che quindi fosse di fatto una brava persona cosa succede poi che due anni dopo l'inizio della relazione Nikki inizia un percorso di terapia con una psicoterapista e racconta questa psicoterapista di aver subito nuovamente un abuso sessuale da parte di un giardiniere che lavorava a casa di sua madre durante varie seduti di terapia in cui parlarono di questa cosa Nikki dirà alla psicoterapia di avere dei ricordi un po' confusi di quello che era accaduto e di non essere sicura di che cosa esattamente era avvenuto a casa di sua madre per mano diciamo del giardiniere e cosa con Chris col suo compagno non riusciva a dividere le due cose a dire è successo x y e z con il giardiniere e y y e z con il mio compagno Chris di conseguenza cosa significa dal punto di vista processuale come facciamo ad essere sicuri che quegli abusi di cui parlava siano stati effettivamente fatti da Chris e non da qualcun altro che aveva abusato di lei altra informazione che viene fuori dalla terapista a quanto pare all'inizio della relazione con Chris ancora però prima di rimanere incinta di Ben Nikki aveva avuto una relazione con un altro uomo un poliziotto e questa relazione qui è confermata anche da Nikki dirà anche lei di aver avuto questo rapporto quando stava iniziando a frequentarsi con Chris e aveva raccontato alla sua terapista che in un episodio in particolare era stata violentata anche dal poliziotto una volta tirate fuori queste informazioni al processo le persone che sostenevano la famiglia di Chris che quindi sostenevano il fatto che Nikki si fosse inventata tutto e avesse lo avesse ucciso perché voleva sbarazzarsi di lui e non per una questione di legittima difesa iniziano a credere sempre di più alla loro versione e soprattutto inizia a vociferarsi un'altra cosa ovvero il fatto che Nikki avesse un qualche tipo di fantasia sessuale che comprendesse la violenza e che di conseguenza chiedesse alle persone con cui aveva dei rapporti di fare una serie di cose di inscenare magari tutta una serie di cose la madre di Christopher in particolare testimonierà al processo e dirà di essere convinta che suo figlio non era una persona cattiva eccetera eccetera in particolare testimonierà di aver assistito lei stessa ad alcuni degli incidenti che causeranno poi dei lividi su Nikki un incidente in particolare era un giorno che si trovavano proprio a casa i genitori di Chris e Ben stava giocando con una chitarra per bambini a un certo punto si era girato molto di scatto non lo aveva fatto apposta però aveva tirato questa chitarra in faccia sulla guancia di Nikki e a Nikki poi era venuto un livido sulla guancia proprio per quel motivo ed era lo stesso livido che lei aveva spiegato come Chris si era arrabbiato con me e le aveva poi sbattuto la faccia sul muro chiaramente poi alla madre di Chris verranno chieste tutta una serie di cose perché va bene un livido due lividi cinque lividi magari che puoi aver assistito ma parliamo davvero di decine e decine e decine di ferite lividi abrasioni eccetera che sono difficili da spiegare con Ben il bambino la figlia Faye giocavano in maniera un po' scalmanata hanno lanciato cose eccetera infatti la madre dirà di essere convinta che tutte le altre ferite se le era procurate da sola anche se per molte ferite ci saranno valutazioni da parte di professionisti che diranno che era davvero improbabile che alcune di queste ferite se le fosse procurate da sole per la posizione in particolare i segni di morsi dietro le spalle è un po' difficile se non impossibile mordersi dietro le spalle l'accuso ovviamente anche per giustificare questa cosa diranno che probabilmente morsi e anche tutta una serie di lividi potevano essere stati procurati da altre persone come vi dicevo c'era già la prova di questa terapista che aveva raccontato che Nikki stessa le aveva detto di non essere in grado di diciamo capire che cosa era successo con uno che cosa con l'altro quindi chiaramente l'accusa ci va a nozze con una situazione del genere quindi dicono che appunto non è possibile sapere con certezza se intendeva di uno o di un altro magari quei segni gliel'aveva fatti qualcun altro in ogni caso anche al processo nessuno riuscì a portare nessuna prova forense che potesse provare che Chris stesse dormendo nel momento in cui Nikki gli ha sparato quindi sicuramente non è stata una cosa che è stata provata da dei dati scientifici biologici ultima cosa di cui vi parlo del processo un altro argomento un po' sensibile ovvero super nub che vabbè non mi metterò delle foto per ovvi motivi su youtube ma penso che tutti sappiate di cosa si tratta un profilo chiamato Grover Respect e vi ricordo che il cognome di Chris è Grover aveva postato delle immagini di Nikki che non vi posso far vedere ovviamente per ovvi motivi ma erano immagini secondo la difesa degli abusi subiti da Nikki c'era Nikki legata con anche delle espressioni terrorizzate piangeva secondo l'accusa si trattava di un gioco erotico nel profilo della descrizione diciamo che fosse l'abbio di questo profilo in particolare la persona che aveva creato il profilo si descriveva come un 29enne appassionato di arti marziali che come sapete Chris era appassionato di arti marziali e aveva cintura nera di taekwondo nonostante tutto il giudice al processo dirà che non ci sono abbastanza prove per confermare che quel profilo fosse effettivamente stato fatto da Chris nonostante il nome nonostante le immagini di Nikki e sono immagini in cui la si vede in faccia cioè è sicuro che quella persona fosse Nikki in ogni caso dopo 14 lunghissimi giorni di processo la giuria dichiarerà Nikki colpevole di omicidio di secondo grado nelle spiegazioni di questa sentenza scrivono che ad esempio Nikki una volta che si trovava in soggiorno poteva andarsene perché era vicino alla porta d'ingresso e in più la tesi principale dell'accuso ovvero del non poter confermare con certezza che l'aggressore fosse stato Chris e non qualcun altro al processo in realtà verrà condannata a un ergastolo con un minimo di 19 anni da scontare prima di poter richiedere la libertà condizionale ma un appello molto recente ha fatto sì che il caso di Nikki passasse sotto una legge che praticamente permette di ridurre di moltissimo la sentenza cioè la condanna nei casi in cui ci sono prove che la vittima subisse da diverso tempo degli abusi sia fisici che psicologici da parte della persona che è stata uccisa quindi grazie a questo appello che ha fatto rientrare il caso di Nikki in quella legge la condanna è stata ridotta a sette anni e mezzo di prigione essendo in prigione lei ovviamente non può occuparsi dei figli Ben e Faye che vivono con la famiglia di Nikki e durante i weekend sabato e domenica passano il weekend con la famiglia del padre la famiglia di Chris ancora tantissime persone sostengono sia una teoria sia un'ipotesi sia l'altra in particolare le persone che sostengono Nikki una volta ogni paio di mesi organizzano delle sorte di manifestazioni davanti alla prigione in modo che lei affacciandosi dalla finestra le possa vedere cantano insieme fanno anche un po' di sensibilizzazione per la loro causa e raccolgono dei fondi per aiutare Nikki con le spese legali come vi dicevo un caso estremamente controverso in tutto il mondo quindi sono sicura che anche nei commenti qua sotto ci saranno persone con opinioni diverse ricordatevi sempre dibattito educato non arrabbiamoci non ha senso però sarà molto interessante vedere le vostre varie opinioni qui sotto in ogni caso questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi dovessero esserci novità nuovi appelli perché ovviamente anche l'accusa adesso potrebbe rifare un appello per cercare di allungare ulteriormente la sentenza che adesso è stata ridotta a sette anni e mezzo in quel caso ovviamente in un commento o in descrizione metterò l'aggiornamento per il caso di oggi era tutto noi ci rivediamo con un prossimo video a sette anni e mezzo 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 a sette anni e mezzero